Lunga giornata con il premio Beethoven Forza per due anni Sul miglio, undici al via Nova Gorizal, Narciso, Serial, Nadal Street, Nat Ray Fetz, Nereides, Neskens Nesee, Noel Stroke in prima fila Noscialanza Spin, Noa Di Iesolo e Nevermind in seconda Favori del pronostico disposti tra Noscialanza Spin e Noa Di Iesolo Discosso dalla macchina Noel Stroke In rottura Nonchalanza Spin Allo stacco, prova ad assumere il comando delle operazioni Nadal Street Che deve fronteggiare all'esterno Neskens Poi l'errore di Nereides, alla corda partita bene Noa Di Iesolo dalla seconda fila Scende alla corda Neskens Allora i cavalli sono quasi in fila indiana Quando siamo al paletto dei 400 metri Sempre con Nadal Street al comando Quindi ancora il numero 6 di Neskens Secondo all'esterno muove Nesea Quindi Nevermind Ancora a seguire Noa Di Iesolo Cavalli che passano ai 600 in 46 e 3 Con ancora Nadal Street al comando Il gruppo disposto in pariglia All'esterno c'è Nesea Poi la coppia formata da Neskens che ha a sua volta all'esterno Noa Di Iesolo Quindi alla corda il numero 11 Nevermind 1,2,4 per gli 800 Sempre Nadal Street al comando Sempre ancora Nesea al suo sediolo Il chilometro in 1,17,7 Si va in accelerazione 1,15,3 per il paletto Con ancora l'errore di Neskens che viene squalificato Nadal Street che sulla curva Tiene ancora il rispetto Nesea Dietro c'è sempre Noa Di Iesolo In terza ruota Prova ad avventurarsi Noel Stroke Poi anche si fa rivedere Nochalance Spin Cavalli che affrontano addirittura Con Nadal Street sempre al comando Che ora deve difendersi dal finale di Noel Stroke Che va ai fianchi di Nevermind Nadal Street che deve tenere duro Nadal Street che viene a vincere su Noel Stroke Nevermind 2,4,2 la distanza e vittoria per Nadal Street Willem Pall 3,56,1,17,6 la media al chilometro Per Nadal Street in percorso di testa Ha tenuto a bada i vari tentativi Prossimo convegno lunedì 16 novembre Ore 14.30